E' chiaro che come categoria siamo abbastanza preoccupati, nonostante Federpharma, che è il nostro organo di riferimento, volesse queste liberalizzazioni, però io credo che in questo caso abbiamo fatto ancora una volta le cose un po' all'italiana e vi spiego come mai. Primo perché in un momento di difficoltà è chiaro che l'apertura di punti vendita non può che preoccuparci, perché ci preoccupa? Perché maggiori costi per noi significa minore fatturato, maggiori costi significa minori servizi verso la clientela. E poi, ma questo tutto sommato in un momento di giustizia sociale diciamo che ci può stare. Quello che invece secondo me non tutti sanno è che è stata fatta anche una liberalizzazione sui prezzi dei farmaci di classe C. Però non tutti sanno che ne è stata fatta una liberalizzazione solo sui prezzi in uscita verso il pubblico. I prezzi che le farmacie pagano per i farmaci è rimasto invariata, cioè fondamentalmente ancora una volta se andate a tutelare gli interessi dello Stato, ma soprattutto delle dite farmaceutiche che stabiliscono insieme all'AIFA, che è l'organo, poco importa, ma l'organo di riferimento, che fissa i prezzi al pubblico dei medicinali. Quindi fondamentalmente i cittadini non si devono aspettare dei grossissimi sconti, perché se continueremo a pagare, se come farmacisti continueremo a pagare i farmaci, noi stessi li pagheremo carissimi, sarà difficile che potremo inventarci degli sconti particolarmente elevati verso il pubblico. Per quanto invece la liberalizzazione sugli orari, questa è una cosa che mi preoccupa moltissimo. Forse non preoccupa tanto noi in Alta Valle Seriana, ma deve preoccupare la città. Perché prima chi faceva turni notturni e aveva le aperture domenicali, era tutto sommato tutelato nel senso che esistevano, l'ASLE identificava diverse farmacie sul territorio che davano continuità di servizio. Oggi in questa foresta ognuno è libero di fare quello che vuole. E quello che vi chiedo è, ma perché una farmacia deve tenere aperto di notte o deve tenere aperto la domenica, quando non riesce a pagare i costi dell'apertura perché ci sono aperte altre dieci farmacie. In ultima analisi, due parole anche per quanto riguarda il concorso che è stato aperto. Questo concorso Cresci Italia voleva essere indirizzato ai giovani, magari dei neoloreati, e la trova una cosa giustissima, che potessero aprire e avere la propria farmacia. Ahimè, è stato ideato un concorso per titoli. Per titoli che cosa significa? Che senza nulla togliere ai meno giovani, se il limite d'età è stato fissato su 65 anni, è chiaro pensare per chiunque che i titoli ce li avranno i 65 anni e non di sicuro i 25-30 anni che avranno appena finito l'università. Per quanto riguarda invece la situazione del Comune di Clusone, come categoria siamo abbastanza ramaricati del fatto che non ci sia stata la possibilità di dialogare prima che i giochi fossero fatti. In realtà il Comune di Clusone è arrivato all'ultimissimo, il termine era lunedì di due settimane fa e il Comune di Clusone ha emanato una delibera di giunta il sabato prima del termine. Io direi che le cose sono state fatte in modo abbastanza rapido, forse troppo rapido, nonostante la stima che ho nei confronti degli amministratori. Sì, perché se è vero che questa farmacia sa ad aprire e sa ad aprire le fiorine, ci sarebbe stata la possibilità, rinunciando a questo concorso e quindi dando la possibilità a un operatore non più giovanissimo e di fuori, ci sarebbe stata la possibilità di accaparrarsi la farmacia come farmacia comunale, aspettando semplicemente un anno. E in una situazione come quella del Comune di Clusone, che ha un bilancio, se mi permettete, piuttosto difficile, non sarebbe stato male, anche per noi farmacisti, capire e comprendere che l'apertura sarebbe stata a favore della cittadinanza, anche in termini di utile, che sarebbe poi finito nelle casse del Comune.